Musica Ben ritrovati, buongiorno, buongiorno a tutti oggi è venerdì 31 ottobre 2014 e questa è la rassegna stampa occhio ai giornali in diretta come sempre alle 7.45 del mattino allora subito il santo del giorno oggi la chiesa ricorda Santa Lucilla di Roma il sole è sorto alle 6.42 tramonterà un minuto dopo le 17 tre giorni di bel tempo con il sole baciato con la regione baciata dal sole perlomeno su tutta la costa come vedete giornate fotocoppie da qui ai prossimi due o tre giorni cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento per oggi più o meno la stessa cosa per la giornata di domani attenzione però alle foschie nelle ore più fredde della giornata i locali banchi di nebbia soprattutto nelle vallate dell'interno così come domenica 2 di novembre poi fino a metà della prossima settimana come dicevo avremo tempo stabile probabile peggioramento seppure le informazioni che sono disponibili al momento non sono ancora molto dettagliate nelle marche non dovrebbero esserci fenomeni rilevanti mentre qualcuno annuncia un forte maltempo sulla parte occidentale dell'Italia allora ci sono tante notizie questa mattina sui giornali da leggere insieme cominciamo dalla pagina di Fossombrone con la cronaca poliziotto trovato morto un assistente cinquantenne della penitenziaria il corpo di un assistente capo della polizia penitenziaria di Fossombrone era adagiato sul divano la televisione è accesa la sera prima la compagna l'aveva lasciato lì nella casa di Calcinelli a guardare i gol del campionato di calcio quando però la donna si è svegliata al mattino alle 5 per andare a lavorare non l'ha trovato vicino al letto è andata di là e insomma ha visto che c'era il suo compagno Francesco Vichi nel divano privo di vita questa è la cronaca da Fossombrone ieri c'è stato il processo l'udienza è stata poi rinviata al 19 processo Ferri delitto Ferri vicini ma non si parlano né si guardano sono Sabanov e Bari accusati di aver ucciso il benzinaio a Pesaro Donald e Carem amici diventati nemici due imputati nelle gabbie ambe due le mamme presenti difendono i loro figli la madre di Sabanov dice Andrea era uno di cui ci fidavamo quando siamo andati in Germania gli ho affidato mio figlio e lui mi ha detto stai tranquilla due pagine il resto del Carlino dedica a questo processo forse hanno sparato due pistole e il luogo dei bossoli non torna quelli sparati con le pistole appunto il legale di Sabanov partito in quarta si devono sentire altri testimoni ha detto l'avvocato Felice Franchi la procura non ha ascoltato testimoni che hanno visto aggirarsi uomini armati poco prima dell'omicidio ancora dal resto del Carlino invece la pagina di Fano si occupa di un palazzo gigante con dentro solo 15 persone il palazzo in questione è la biologia marina che si trova in Sassonia la fotografia è pubblicata questa mattina in tutta pagina in prima pagina sul Sufano un casermone di 3900 metri quadrati praticamente vuoto potrebbe essere una risorsa per tutta la città il laboratorio di biologia marina se solo se ne sfruttassero appieno le potenzialità lasciate andare alla malora negli ultimi vent'anni qui in questa fotografia vedete il direttore dell'istituto il professor Corrado Piccinetti la politica Minardi l'ultima persona che può parlare di me è Solazzi il presidente del Consiglio Comunale di Fano replica le bordate lanciate ieri dal giornale con un'intervista a Vittoriano Solazzi il Consiglio sarebbe meglio eliminare l'ambiguità tra Marche 2020 e il Partito Democratico il cimitero preso anche come per un dormitorio all'ingresso ci sarà la protezione civile giro di ricognizione nei camposanti comunali del sindaco Seri e di Marina Barniese l'assessore per i piccoli interventi dice stiamo già lavorando il primo cittadino ancora ci sono un po' di malumori non tutte le cose sono state sistemate anche ieri abbiamo ricevuto alcune telefonate di utenti che si lamentavano appunto di alcuni servizi all'interno dei cimiteri in particolare quello di Rosciano andiamo adesso sul Corriere Adriatico apriamo la pagina di Fano con la perizia interquartieri più costosa accolta anche se solo in parte una richiesta avanzata dal Comitato per la viabilità sostenibile i residenti avevano chiesto anche la revisione del tracciato di questo interquartiere per i lavori serviranno 4 mesi in più in alto un autofono silenzio totale danno tra sponso e ripetizione il consigliere regionale contesta le mosse della precedente amministrazione di quella attuale e lancia un appello per sbloccare la situazione soprattutto adesso che arriva la stagione invernale e crescono le difficoltà per i pescatori dall'altra pagina del Corriere commozione e applausi le toccanti parole di Lucia Nibali e l'analisi del colonnello Donnarumma anche qui si parla oggi dell'incontro che c'è stato l'altro giorno con le parole giuste all'incontro nella Sala Verdi la cronaca ancora un'altra raffica di furti paura a San Lazzaro Forza Nuova chiede passeggiate per la sicurezza i malviventi in azione sia di giorno che di notte l'ultimo blitz è quello in casa di Via Novelli sempre dal Corriere Valle del Cesano una tipicità tira l'altra non solo tartufi e farro Fratterosa protagonista con la fava al Salone del Gusto di Torino la pagina di Senigallia cibo ai piccioni scattano le multe tolleranza zero sui piccioni con le prime due molte notificate ad altrettanti senigalliesi sorpresi a dare del pane ai volatili l'assessore Campanile annuncia inoltre che proporrà una maxi multa da 400 euro rispetto alle attuali 50 per chi insomma insisterà e darà da mangiare ai piccioni cambiamo giornale andiamo sul messaggero Regione Mezzolani l'assessore alla sanità è a rischio Spacca il governatore si candida per il terzo mandato qui si vuol cambiare tanto per cambiare dice Spacca ed è pronto a rimpasto Comi segretario regionale del Partito Democratico dice il PD conterrà ritorsioni e sbandamenti sino alla fine gli acchiappafantasmi ci sono anche loro gli acchiappafantasmi a caccia di un unicorno l'associazione National Ghost Uncover a Marotta per ricerche e sopralluoghi le segnalazioni parlano di una misteriosa presenza notturna tra il lungomare e piazza Kennedy ancora dal messaggero sulle pagine interne un testimone vide due uomini armati Delitto Ferri l'avvocato difensore di Sabano punta subito a scardinare la tesi dell'accusa nella ricostruzione dell'omicidio la Corte d'Assisi ammette solo 61 testi sugli oltre 200 presentati e respinge anche l'istanza di una perizia balistica e sul DNA nei reperti Benelli Motto il sindaco Matteo Ricci convoca i cinesi crisi all'International in 45 a rischio e Borgo Pace oggi è la città un paese un paesino deserto perché fanno esplodere della bomba nella quale si parla ormai da diverse settimane oltre 400 residenti saranno sgomberati in via precauzionale sulla sanità la CGL accusa provincia penalizzata RSA centri diurni posti letto e fondi la regione trascura il territorio pesarese rispetto ad altri centri marchigiani chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero cimitero dell'Ulivo un privato paga i lavori per sistemarlo per il decoro la protezione civile invece sorveglierà il Camposanto centrale passeggiate notturne contro i furti a San Lazzaro forza nuova annuncia le passeggiate per la sicurezza passeggiate è una parola gentile che lascia intendere un altro significato ronde ma insomma la sostanza non cambia speriamo che almeno l'effetto faccia sia da deterrente in qualche modo ormai Ponte Sasso il Comune è una nostra priorità follata assemblea con il Sindaco Seri e gli assessori affrontate le questioni del dissesto idrogeologico con la devastante piena del rio Crinaccio ma anche nella scuola e del distacco di Marotta intanto il circolo PD azzera per protesta il tesseramento è il circolo di Ponte Sasso che prosegue la lotta politica contro il livello regionale del partito Allora la rassegna stampa finisce qui vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi auguro una buona giornata in compagnia dei nostri programmi ovviamente stasera c'è il telegiornale alle 20.30 la rassegna stampa non c'è domani perché domani santifichiamo la festa di tutti i Santi poi c'è domenica ci ritroveremo lunedì mattina alle 7.45 arrivederci a